Emozioni ottiche Fotoottica Scaravilli è da anni un saldo punto di riferimento ad Adrano nel settore dell'ottica. Il personale è altamente qualificato e mette a disposizione della clientela la propria esperienza maturata in tanti anni di attività nel settore. Propone un'ampia scelta di occhiali da vista e da sole delle migliori griff. Un'assistenza specializzata nella scelta di lenti a contatto, il tutto con cortesia e competenza. Emozioni ottiche